Quando si parla di rally, si parla di Delta, si parla di Delta Martini, 1990, Oriol, oggi qui, un grande essere in famiglia, un applauso è bellissimo, 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 insomma è stata 037, Carlo Di Grandi, con la Safari, la Lancia 037, l'ultima azienda in Parigi. Oh no! Oh no! E la passione ci porta, a lui, a quasi 90 anni, Antonio Pasquale, da Lugano, carissimo amico della Sibre, ha sempre portato delle vitture straordinarie. E ci metto da via, un pesado di vento, bravo, 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 a lui, a chi c'era un po' di vento, bravo, 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 bravo. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.